Questa trasmissione è offerta da Agenzia Immobiliare Immobilcase. Benvenuti al punto, benvenuti qui a Telefriuli, benvenuti al sindaco di San Giorgio, Dino Garo, Pietro del Frate. Benvenuto sindaco. Grazie a voi e a vostri telespettatori. Bene, allora, è un amministratore di lungo corso perché è ritornato dopo un po' di tempo al timone di San Giorgio di Nogaro. Ecco, come ha trovato il comune San Giorgio di Nogaro? È stato anche consigliere comunale il frattempo, no? Sì, certamente. Ma io ho trovato l'entusiasmo di sempre, a dire la sincera verità, e la voglia di fare. Cioè nel senso che i cittadini si attendono che gli amministratori diano seguito alle promesse che hanno fatto in campagna elettorale. E quindi alcuni interventi e alcune decisioni si devono prendere. Ecco, nel bilancio che effettivamente in questi giorni lo avete approntato sicuramente, no? Le cose salienti quali sono, sindaco, per San Giorgio, che è un punto di riferimento. Non dimentichiamo che è un porto di tutto rispetto a livello nazionale, no? Voi ne parliamo. Beh, sicuramente l'attività economica prevalente, la zona industriale e il porto. Quindi tutte quelle opere che interessano la zona industriale, quindi le occasioni e le possibilità di sviluppo e il porto stesso, quindi le infrastrutture. Ecco, uno... Quello è il cuore, diciamo così, del... Sicuramente. Anche se San Giorgio e Nogare è un punto di riferimento anche per la cultura della bassa friulana. Tant'è vero che siamo capofila del sistema bibliotecario di tutta la bassa friulana. Che raggiungiamo circa con... sui 90.000 utenze. Eh, quindi insomma... Ci avviciniamo alla città di Udine. Una città di Udine. Un punto di vista culturale, sicuramente. Sì, sì, sì. E quindi avete anche modulato le tasse, avete cominciato... Perché le tasse sono appunto a Dolenz. Beh, sicuramente. Noi abbiamo mantenuto le stesse aliquote previste dalla precedente amministrazione. Anche perché in due mesi non è che potevamo fare miracoli. Ci siamo promessi, selezionando gli interventi e cercando di venire incontro ai cittadini, di iniziare dal prossimo anno a calarle. Ecco, c'è un dato però significativo che ci riportiamo dietro da parecchi anni. Cioè il fatto che l'Immu della zona industriale non rimanga, non rimane in comune ma va allo Stato. Quindi sono risorse notevoli. Quindi voi fate da passacarta, da gabelier, insomma. Eh, esatto. Prendete i soldi e dà allo Stato. A tutti gli effetti. Tanto è vero che fin anni fa l'addizionale IRPEV non veniva applicata. Ma dopo che lo Stato si è come incamerato i soldi dell'Immu abbiamo dovuto fare questo passo. Questo non si può fare a meno. Ecco, come il personale, come siete il segretario comunale, lo avete? Eh, sì, sì, sì. Con gennaio abbiamo avuto la possibilità di avere la disponibilità del dottor Moro, che prima era a Scavalco. e prossimamente faremo la convenzione tra San Giorgio di Nogaro e Porpetto. Quindi tra i due comuni... Sì, insomma, avete stabilizzato. Sì, ecco, da questo punto di vista adesso ci sentiamo un po' più tranquilli, perché a Scavalco è un problema. Il tema dei segretari comunali nei comuni della regione è un tema scottante, perché purtroppo sono pochi e pochi non riescono a contentare. Speriamo questi concorsi, vanno avanti, no? Speriamo, speriamo assolutamente. per la tranquillità di tutti. Ecco, il resto del personale, avete coperto tutta la pianta organica? No, ci saranno dei concorsi e delle mobilità in questo periodo per effetto di persone che sono andate in quiescenza, sono andate in pensione, quindi vanno sostituite. In ufficio tecnico, ragioneria, certo, prossimamente ci sarà anche nel sistema bibliotecario, ma contiamo di... ecco, nel frattempo alcune funzioni le abbiamo trasferite nella comunità e quindi diamo... Con chi siete in comunità? Siamo nella comunità Riviera Bassafrilana, assieme ai comuni di... dalla Tisana fino a San Giorgio di Nogaro. Ecco, quindi diciamo avete fatto una mini provincia in sostanza, perché questo è... ma non proprio, anche perché obiettivamente la comunità ha, come dire, un ruolo limitato, è quella di, diciamo, di coprire gli aspetti di carattere amministrativo, cioè nel senso le funzioni puramente amministrative, quindi personale e quant'altro, dovrebbe avere un ruolo più importante e credo che fondamentalmente la Bassafrilana per la realtà che rappresenta dovrebbe essere costituita da un'unica comunità, quindi superare il dualismo, diciamo, facendo riferimento come territori latisanese e cervignanese. E quindi una roba più vasta, una cosa, insomma, più importante. Con compiti di programmazione e di confronto dialettico con la Regione. Si parla, appunto, a proposito di Regione, si parlava tempo fa di aree vaste e aree speciali, sono arrivate le DR lì, gli enti di... No, che però non vedo, non vedo, non vedo concretezza ancora, stiamo ancora aspettando. Le DR dovrebbero avere la stessa funzione, dovrebbe essere un ente intermedio tra i comuni e la Regione. Staremo a vedere, mi pare che per adesso si muovano in modo molto, come dire, pesante e lento. Diciamo lento, diciamo lento. Staremo a vedere. Ecco, per quanto riguarda la viabilità, come la giudica? La viabilità, beh, soprattutto c'è la necessità di rafforzare la viabilità ciclopedonale, che interessi i collegamenti con tutti i territori della bassa friulana, ma oltre a questo c'è la viabilità pesante, cioè quella di collegamento tra l'autostrada e la zona industriale. Secondo accesso, la viabilità su ruota, quindi il problema di trasferire, cioè di modificare il tracciato dell'attuale linea ferroviaria che collega la stazione ferroviaria di San Giorgio con l'Ausacorno. Ecco, il porto lì sta attraversando una situazione complicata oppure... Eh, beh, adesso... Parte la questione della guerra in... La questione contingente accentua ulteriormente le difficoltà. Il tema è quello dei dragaggi. Se i fondali rimangono così come sono, diventa sempre più un problema, perché le bramme, ad esempio, vengono in parte scaricate a Mofalcone e poi via mezzo meccanico, quindi su ruota, su mezzi pesanti, vengono trasportate alle acerie di San Giorgio di Nogaro e questo crea problemi sulla statale, nei paesi che attraversa, compresa la città di Mofalcone. C'è una specie di domino, in pratica. Esatto, esatto. Però, io penso questo, che il tema dei dragaggi, non solo per San Giorgio di Nogaro, ma anche per Marano, ma anche per altre località, insomma, che hanno queste caratteristiche, mi sembra che dovrebbe essere appunto... No, no. ...diventa in alto, insomma, anche per la regione, perché è un tipo di operamento dal punto di vista economico, insomma, no? Quindi, magari come sindaci si è fatto un po' di voce grossa, perché capisco che è da tempo che lottate, insomma, no? Sono parecchi anni che su questo tema ci stiamo, come dire, dibattendo. Dibattendo, ecco. Il tema dei dragaggi è un tema fondamentale per l'economia, soprattutto della bassa ferroiana, ma per l'economia regionale, se pensiamo che i dragaggi servono al diportismo e quindi al turismo, alla pesca, perché se le imbarcazioni non riescono a uscire dal proprio porto, e non possono raccogliere il pescato e l'industriale, quindi il trasporto delle merci, ecco, sostanzialmente. Ecco, San Giorgio Nogaro, che sui 7.000, 7.000 qualcosa di abitanti, ha anche associazioni, insomma... Tantissime associazioni, sono più di 60. Hanno ripreso adesso dopo la pandemia, oppure stiamo uscendo, insomma? Sì, no, no, diciamo che non sono mai... hanno rallentato la loro attività perché era comprensibile, ma sono sempre più vive e anche propositive, quindi se molte cose l'amministrazione riesce ad attuare, lo deve moltissimo anche al volontariato, quindi a tutte quelle associazioni, carattere sportivo, culturale, di assistenzialismo, che fanno. E questo è fondamentale. Tant'è vero che il 90% delle associazioni hanno la disponibilità della sede di proprietà del comune. Quindi, insomma, è un punto di riferimento imprescindibile, come un po' dappertutto, questo volontariato. Fondamentale. A di là della protezione civile, insomma, che sappiamo, no? Sì, sì, certo. Certo, cioè la misericordia. Negli ultimi anni, per effetto dei lavori per la terza corsia della zona dell'autostrada, si è, come dire, individuata una sede, è stata individuata una sede della Croce Rossa, quindi fa il servizio di ambulanza 24 su 24, quindi in un locale messo a disposizione dal comune. Benissimo. Senta, Sindaco, la questione del piano regolatore, avete cominciato a ragionare? Sì, abbiamo cominciato a ragionare. Noi abbiamo trovato già la delibera di assegnazione, l'incarico per la revisione del piano regolatore, abbiamo preso i contatti con il professionista e abbiamo già iniziato a ragionare. Stiamo attendendo che vengano nominate, con un decreto ovviamente del Sindaco, quindi mio, i commissari per le varie commissioni, tra le quali la commissione urbanistica e ambiente, che sono fondamentali, in modo tale che la revisione del piano regolatore sia, come ne avvenga, in una fase partecipativa, attraverso le commissioni e la consultazione dei cittadini, che è fondamentale, anche se, devo dire la sincera verità, rispetto alle prospettive economiche in campo, non è il momento di fare rivoluzioni dal punto di vista urbanistico. È cambiato il contesto, insomma. È cambiato il contesto. Senta, per chiudere, gli eventi che sono in programma, magari quando l'estate sicuramente qualcosa farete, no? Beh, quest'anno, salvo imprevisti dell'ultima ora, abbiamo avviato le procedure per riprendere quella grande manifestazione che si chiama Itinerania, tra gusto e arte. Quindi vogliamo essere ottimisti, quindi dare avvio, dare un senso della normalità, anche se non al 100%, però... Beh, ripartire, insomma, a San Giorgio di Nogaro, insomma, sono i suoi punti di riferimento. Sicuramente, era un punto di riferimento del territorio, soprattutto. Bene, allora, con l'appello di andare tutti a San Giorgio di Nogaro a questa manifestazione, non appena voi farete il battaglio. È dal 2 giugno al 5 giugno. Ecco qua, dal 2 giugno al 5 giugno, tutti a San Giorgio di Nogaro, naturalmente farò una scappata anch'io. Caro sindaco, grazie per la partecipazione, naturalmente è sempre aperte le porte qui da noi a Telefriuli al Punto in particolare. Con voi ci vediamo con la prossima puntata, con un altro sindaco, un altro primo cittadino, naturalmente altre storie, altri approfondimenti. Alla prossima! Questa trasmissione è stata offerta da Agenzia Immobiliare Immobilcase.